ok ciao ragazzi oggi vediamo insieme il medio di gamma medio basso di gamma della samsung samsung a 21 s che ha tutto quello che deve avere un telefonino della samsung per chiamarsi smartphone di qualità quindi il buco nello schermo prima cosa quindi l'han fatto anche lui col buco dello schermo quattro fotocamere e quindi un estetica all'altezza del nome e adesso vediamo anche le caratteristiche probabilmente lo potremmo definire best bui è leggermente più grosso di come dimensioni del a01 che vedete qua nel link in descrizione in firma qua sopra comunque la 0 1 che è il piccolo della di samsung vabbè dai adesso inutile che siamo a raccontarci le storie andiamo a vedere il telefono e le sue prestazioni ora partiamo con l'unboxing di a 21 s il telefono è veramente interessante molto carino da vedere in scatola è ovviamente ma adesso lo vediamo anche dal vivo comunque aprendo la scatola la prima cosa che balza all'occhio è la scatolina delle istruzioni e garanzia internazionale samsung ok il telefono in questo caso è il la versione blu quindi black anche se a me sembra blu comunque come vedete come dicevo prima quattro fotocamere fotocamera frontale col buco le dimensioni sono quasi anzi direi come quelle di un redmi no not 9 s le più o meno a le stesse dimensioni poco 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 ci manca come vedete pochissimo quindi pari prezzo sarebbe bello poi fare una comparazione proprio e mi sa che la facciamo comunque pari prezzo telefono però veramente esteticamente più bello più leggero proprio peso si sente che c'è una certa differenza sblocco biometrico posto sul retro che a mio avviso è meglio perché io sono mancino e qui mi dà fastidio e va bene continuiamo l'unboxing poi vediamo un po le caratteristiche di questo bellissimo telefono nella scatola poi troverete anche le cuffie con jack le cuffie con jack caricatore tipo c quindi type c clip per rimuovere la sim e lsd e fast charger adapter fast charger quindi quello che si trova più o meno sempre in una scatola di un telefono dai accendiamo il telefono e vediamo un attimino le caratteristiche insieme che niente ragazzi volevo soltanto pausa pranzo volevo aprire una piccola parentesi su questo dispositivo che secondo me veramente quando se parliamo di qualità prezzo quindi per proporzione tra quello che costa è effettivamente il telefono graficamente il design quindi parliamo del design è veramente veramente carino è un telefono che io personalmente acquisterei per me se dovessi usarlo secondo me la fascia di età che va a prendere è abbastanza ampia cioè va a prendere appunto quella fascia di età che è che si che balla dal giovane che si approccia al telefono quindi per la prima volta alla persona di una certa età che che vuole un telefono che non ha grandi fronzoli che non ha un costo eccessivo che sia abbastanza prestante e con un bel design appunto con una bella estetica una bella estetica procediamo andiamo avanti con con col video volevo aprire questa parentesi perché ha fatto una riflessione durante la pausa pranzo io partirei col dire che galaxy a 21 s è uno smartphone ovviamente motorizzato android di buon livello credo che possa soddisfare anche l'utente più esigenze allora secondo me la cosa più carina è il display il display da 6 e 5 quindi abbastanza grandino ma bello da tenere in mano molto meno spesso rispetto a al punto redmi 9 s che vi ho fatto vedere prima è da 6 e 5 comunque il display da 6 e 5 in orizzontale e la risoluzione da 1600 per 720 pixel che competito prima il prevalente competitor di questo telefono è il appunto redmi 9 s potrei dire redmi 8 t potrei dire non mi viene in mente molto se devo essere sincero per questo tipo di telefono come competitor diretto comunque andiamo ancora a vedere quattro fotocamere queste sono da 48 megapixel ormai deve dato uno standard per quasi tutti i telefoni comunque ripeto per il prezzo che ha ottimo il 48 megapixel con risoluzione da 8000 per 6.000 pixel registra video in full hd quindi non in 4k con la risoluzione da 1920 per 1080 pixel con android 10 e le dimensioni sono 163.7 per 75.38 punto 9 pesa 192 grammi molto leggero ripeto rispetto a redmi 9 9 s della redmi quindi xiaomi xiaomi chiamatela come volete è molto più leggero processore da 2 giga su un'ottacore un exynos 850 della sasera un attimino perché 3 giga di ram almeno questa versione che è la 32 giga ovviamente 32 giga espandibile fino a 512 gigabyte dicevo prima lo schermo da 6.5 a una risoluzione di 720 per 1600 pixel o però la cosa interessante è che la densità del pixel di 270 ppi lo schermo non è un amoled come ci si aspetterebbe da samsung ma un lcd tft retroilluminato le specifiche del telefono ci sono 48 megapixel più 8 più 2 più 2 in questo caso per effetti bokeh di altissima qualità cosa permette di fare delle fotografie di risoluzione di 8.000 per 6.000 pixel fotocamera frontale quindi il buco nello schermo fa le fotocamere da 13 megapixel appunto come dicevo prima la questa registra video in full ht 30 fps scusate se in full hd a 30 fps altra cosa molto molto interessante è che la batteria è da 5000 milli ampere quindi una buona batteria con una grande durata a fare una veloce comparazione estetica dei due device quindi redmi 9 che secondo me è proprio il competitor come dimensioni batteria e tutto quanto più diretto di questo telefono allora la prima cosa che veramente di cui mi sono accorto è a parte che è molto ben rifinito come telefono potete vederlo anche voi le rifiniture sono più curate tipico comunque dalla samsung curare di più le rifiniture dei telefoni a parte questo che è un po più leggero non stiamo parlando di un peso eccessivo però avendo tutte e due è una batteria da 5.000 mili ampere questo se non mi ricordo 5030 comunque poco cambia e rimane in mano risulta più leggero più compatto anche più compatto non lo so però da una sensazione diversa in mano solitamente elogio redmi o xiaomi in questo caso sto elogiando samsung perché ha fatto un telefono in proporzione al prezzo veramente bello e interessante bello interessante a parte che questo è la coppia spudorata della 51 comunque ovviamente anche a 21 s è un telefono dual sim quindi con possibilità di schede sd ormai sono tutti così e è un telefono che merita allora gli do un 8 a redmi questo è il mio è quindi non ditemi che sono di parte perché di questo sto parlando del telefono che io sto utilizzando a parte l'iphone che sta registrando il video adesso che io utilizzo qui per lavoro do un 8 per lo sblocco biometrico che mi piace molto posto sul retro piuttosto che qui parlo da mancino perché qui è scomodissimo per un qualsiasi mancino e me lo direte anche voi nei commenti sicuramente poi la connettività di questo qui fa abbastanza schifo proveremo la connettività di questo qua e vi dirò come il bluetooth di questo fa fatica a connettersi con le cose ho fatto anche l'ultimo aggiornamento ma continua non lo so mi sta un po deludendo redmi in questo caso xiaomi perché è sempre loro per il momento non lo tengo bello stretto però mi sta un po deludendo e appunto come stavo dicendo tendenzialmente in questo momento se dovessi comprare oggi un telefono non comprerei questo pari soldi perché alla fine sono più o meno gli stessi soldi ma comprerei questo sinceramente molto bello molto ben bello molto bello il design veramente per la proporzione qualità prezzo molto molto bello guardatelo voi i colori sono molto belli rifinito meglio non si vede molto però vedete lo spessore qui quant'è lo spessore qua proprio ben rifinito ragazzi in buona sostanza sinceramente sono rimasto piacevolmente colpito dal lavoro di samsung a 21 s secondo me è un telefono che merita tutti i soldi che costa tra l'altro per i soldi che costa messo a paragone con questo al momento lo trovo meglio detto questo rimane semplicemente una questione di gusti dei gusti bus quindi decidete voi quale acquistare il mio consiglio è questo ciao